Ministro, proprio rispetto al piano di rientro in Irpinia ci sono state delle reazioni fortissime da parte del territorio, i sindaci sono arrivati addirittura al punto di incadenarsi in piazza del Curinale. Io devo dire una cosa, credo che ci voglia veramente del tempo per tutta la popolazione, parlo di tutte le regioni oggetto di piano di rientro, capire la direzione in cui va la sanità e cioè capire che l'ospedale sotto casa non è più un'opzione che serve a curare i cittadini, che serve a curare bene i cittadini. Il percorso territoriale che deve essere creato per i cittadini è avere l'ingresso nel sistema con i medici di medicina generale, con delle strutture ambulatoriali, riservare i ricoveri soltanto a casi estremamente urgenti in ospedali molto tecnologicamente attrezzati e poi a gestire le lungodegenze sul territorio. Quindi non è vero che gli ospedali verranno chiusi, gli ospedali vengono trasformati in centri di diagnostica da un lato e in centri di lungodegenza, riabilitazione e ospice dall'altro. Questo è il nuovo territorio che è stato costruito nel Veneto, in Lombardia, in Emilia, in Toscana negli anni 70, è il nuovo territorio che vogliamo costruire in tutte le regioni. Studiando un dispositivo che consenta di confermare almeno il 50% dei precari. Il piano di rientro, devo dire, da dati preliminari, perché il tavolo non ha ancora espresso un parere definitivo, sta andando direi abbastanza bene. Dunque il piano di riorganizzazione ospedaliera è abbastanza buono, il commissario Caldoro e i suoi collaboratori stanno collaborando con la Genas, con l'Agenzia dei Servizi Sanitari, con un meccanismo di feedback di andata e ritorno tale per cui invece di aspettare di volta e volta i tavoli tecnici è possibile fare degli aggiustamenti in modo da arrivare quanto prima possibile a una sistemazione opportuna. E devo dire che le reazioni dei miei tecnici al piano presentato sono abbastanza buone, abbastanza favorevoli. Restano una serie di problemi, il problema del personale che come noto in particolare per quanto attiene agli infermieri dei problemi anche di costi dovuti a contratti integrativi eccessivi, il problema degli accordi con gli accreditatori privati che va concluso perché sennò poi alla fine di ogni anno non si hanno neanche conti certi, e infine il problema degli acquisti di beni e servizi, sono ancora troppo cari i costi dei dispositivi, la farmaceutica ospedaliera sta salendo ma in linea con il resto del Paese, mentre qualche preoccupazione negli ultimi mesi l'ha destata la farmaceutica territoriale che è andata bene negli ultimi due o tre anni, negli ultimi mesi c'è stato un certo sforamento, speriamo che non si confermi il dato alla fine dell'anno che ci sia un recupero perché questo è un dato sicuramente a correggere. Oggi abbiamo delle metodologie informatiche tali da poter renderci conto in tempo abbastanza reale dei problemi e quindi correre i pali.